Partendo dalla partita con Milano, dove credo la cosa più importante è ritornare a pensare i valori con cui bisogna giocare e cercare di strappare il biglietto fuori casa. Credo che sia fondamentale, cioè riappropriarsi di quelle che sono le capacità, le caratteristiche che ti servono per giocare fuori casa. Contro qualsiasi avversario e naturalmente contro un avversario importante e forte come Milano. Ci dobbiamo andare con la consapevolezza che comunque abbiamo già vinto due scudetti, questa squadra ha già vinto due scudetti. La prima, la quasi permanenza in A1, che era il nostro primo grande obiettivo. La seconda, la partecipazione alla final eight e alla semifinale. E questo per dare forza al fatto che questi valori sono precostituiti. Li dobbiamo solo rimettere in mezzo al campo. Quali sono questi valori? Sono prima di tutto il desiderio. Il desiderio che ti porta però al sacrificio maggiore. Perché per giocare fuori casa, per battere un avversario così forte come Milano fuori casa, devi avere un desiderio forte, maggiore. Parlo di desiderio, non di sogno. Il desiderio è qualcosa di più terreno che bisogna realizzare. Secondo, fare una grande difesa, perché fuori casa si va soprattutto per togliere all'avversario, nel rispetto poi delle proprie caratteristiche. Terzo, commettere pochi errori, perché fuori casa questo ti viene costantemente punito, ancora di più da una squadra esperta, matura e forte come quella di Milano. Poi volevo parlare di Nelson, che secondo me è in linea con quelle che erano le nostre aspettative, perché quando penso a Nelson penso a un giovane giocatore. Penso a un giovane americano che per la prima volta arriva in Italia, dove trova un campionato molto difficile, non solo fatto di tecnica, perché di tecnica Nelson ne ha, ma è fatto di tatticismi, è fatto di situazioni, è fatto di scontri, è fatto di trasferti, è fatto di metodi di allenamenti, tutti diversi. Questo mi porta a pensare che Nelson sicuramente il prossimo anno sarà un giocatore migliore, però sono convinto che ci può regalare queste ultime sette partite tanto, tanto perché è un giocatore educato, gestisticamente, un giocatore che ha sempre pensato al bene della squadra, ha sempre sviluppato i valori con cui abbiamo costruito e stiamo portando avanti la squadra. Un giocatore che ha dato un'importante aiuto a questa squadra e che potrà darlo e sono convinto che potrà darci di più, ancora di più in queste ultime partite. Prego. Il punto di vista tattico, loro rallentano molto, noi forse dovremmo correre ancora di più e dobbiamo stare attenti alla loro fisicità. Sono grossi, vorranno portarci spalle a canestro, come hanno fatto qui in coppia, anche con gli esteri. Si sono grossi e lunghi, lunghi anche come panchina. Per noi è importante e fondamentale correre, questo è a prescindere, è la nostra anima, quindi non possiamo non correre. La seconda cosa è che dobbiamo difendere bene, dicevo prima, gli uno contro uno, le giocate sui pick and roll, dobbiamo essere molto attenti ai taglia fuori, perché loro hanno tutte queste caratteristiche, non solo di valore tecnico, ma hanno di valore di capacità di saperlo fare, che è un'aggiunta al valore tecnico. Noi siamo una squadra che ha costruito le sue vittorie, il suo campionato importante, proprio con i valori tecnici, perché l'esperienza la stiamo maturando, la stiamo facendo. Ecco, loro hanno già queste qualità, per cui dobbiamo appoggiarci al nostro gioco in velocità, ma che in difesa si deve strinsecare proprio con la capacità di anticipare, di sporcare le linee di passaggio, di stare attenti sui pick and roll dentro l'area dei tre secondi, di contrastare il tiro sul perino, perché Milano ha tante frecce per il proprio arco, per cui dobbiamo essere una squadra camaleontica, che sa mescolare bene le carte, che deve saper mescolare bene le carte, e deve saper giocare su tutti i due lati del campo, partendo da una forte difesa. No, credo veramente che le prime sei posizioni siano ormai assegnate, e credo che siano rimaste due posizioni, ci sono tante squadre che possono ambire a questa... esserci in questo contesto vuol dire aver avuto dei meriti, perché tenere il passo di Roma, o avere vantaggio su Treviso, e avere vantaggio su le altre squadre che l'anno scorso hanno fatto campionati importanti, vuol dire che abbiamo fatto qualcosa superiore alle aspettative, superiore a quello che era nella forza della squadra. Io credo che sia la cosa più importante fare. Sappiamo che abbiamo il calendario più duro di tutti, in questa corsa che rimane da qui alla fine. Per cui credo che sia importante non valutare il calendario, non porsi dei limiti, non fare una tabella, perché è limitante tutto questo. Io credo che sia importante buttare tutte le energie, ogni partita, a iniziare da Milano. Sappiamo che se vogliamo entrare dentro, dobbiamo fare qualche colpo fuori, quindi questo è innegabile, quindi fare un qualcosa ancora in più del più che è stato fatto. Per questo chiedo di grattare ancora questo barile nel desiderio, perché i desideri non si devono appassire mai, devono essere sempre rinfrescati. Io credo che abbiamo tanti desideri ancora nel nostro cuore, nella nostra testa, credo che questa deve essere la spinta, sapendo che partiamo dalle difficoltà, come quando siamo partiti sapevamo che per rimanere in Serie A avremmo dovuto superare tante difficoltà. oggi, per arrivare alla Coppa dei Campioni, in senso che dopo aver vinto gli Scudetti, dobbiamo sapere che le difficoltà sono ancora più grosse, perché competere con due squadroni, come Roma e come Treviso, io credo che sia molto difficile. Però il fatto di avere ancora possibilità, ci deve dare un'energia maggiore, perché la forza è quella degli altri, noi dobbiamo mettere più energia. Grazie.